Musica Buonasera amici sportivi, ben ritrovati alla terza puntata di Pianeta Dilettanti, il panorama completo che va dal campionato di eccellenza fino alla terza categoria. Questa sera tutti i risultati, le classifiche, le situazioni dei vari tornei, anche le immagini, perché un po' alla volta siamo ripartiti, come sapete, quest'anno in pratica a metà stagione, però stiamo cercando di recuperare il tempo perduto. Intanto vado a presentare gli ospiti, graditissimi ospiti di questa serata. Sono con noi il direttore generale della Pietrasanta Marina, Sandro Gemignani. Buonasera. Buonasera Sandro e grazie di essere per la prima volta su questi teleschermi e per la prima volta, pure credo, non mi vorrei sbagliare, anche il centravanti, il bomber del Pietrasanta Marina, Paolo Fusco. Buonasera. Buonasera Paolo e grazie anche a te di essere con noi, anche se Paolo poi nelle sue vicissitudini calcistiche è stato in altre squadre, anche qui vicino a Lucca, però è la prima volta che vieni ospite nei nostri programmi. Bomber perché, insomma, Paolo, quanti gol hai fatto quest'anno? Siamo poco dopo. Ebbene, molto bene direi. Bene, bene, siamo soddisfatti. Molto bene, molto bene. Fra poco vediamo un po' i risultati anche di una giornata che, tra l'altro, ieri, Sandro, non vi ha visto protagonisti. Abbiamo riposato, riposso forzato a seguito delle vicende della Fortes Lucchese che nel girone dell'andata è stata estromessa dal campionato. Questo è sempre, ecco Sandro, questo è sempre un peccato, no? E purtroppo devo dire che situazioni del genere quest'anno più che negli altri anni le ritroviamo in altri tornei. Mi viene in mente la prima divisione, il girone del Viareggio con la Nocerina, dove lì addirittura ora settimanalmente sono due le squadre che riposano. Altri tornei, insomma, dispiaci, no? C'è la vicenda del Riccione che tiene un pochino... Ma il Riccione, ora speriamo domenica prossima, che si presenti qui a Lucca, però si sta presentando in campo con una squadra molto, molto giovane, quindi da un punto di vista tecnico relativamente attendibile. Dicevo, ma in generale, senza entrare nel caso specifico di questa o quella squadra, dispiace, no? Che poi un torneo venga così un po' moncato da... Ma soprattutto questa regola che la federazione, insomma le norme NOIF prevedono, ha un po'... Allora, dispiace intanto per la Fortis Lucchese, perché è una società importante del panorama dell'Ettantischio, ma anche con un settore giovanile importante alle spalle, con squadre iscritte nei campionati regionali, che hanno dovuto abbandonare i loro tornei, e quindi anche per i tornei giovanili dei campionati regionali, insomma il campionato è stato falsato. E poi, dal nostro punto di vista, c'è stata anche un po' la beffa, perché avendo giocato noi la partita esterna in casa della Fortis, e avendo ottenuto i tre punti... Voi ci avevate vinto. Noi avevamo vinto 1-0 all'ultimo minuto. Con gol di Fusco? No, gol di Mengali. Gol di Mengali, ma una delle partite giocate nel miglior modo in trasferta, cioè credendo fino in fondo di fare i tre punti. Anche perché il campo della Fortis, tutto si può dire, meno che fosse facile, no? No, era facile vincerci. Dico questo, abbiamo giocato nel campo a Mutigliano, quindi ancora peggio forse. Quando credo che una o due partite dopo il Ponsacco è venuto a giocare al Portelisa, quindi ha giocato in casa della Fortis d'Ucchese al Portelisa, così ci risulta lasciandoci ben tre punti, no Paolo? Sì. Ecco, questa è la cosa paradossale, che il Ponsacco che ora vedremo, stiamo per vedere i risultati della giornata, a Paolo, che sta dominando, forse secondo pronostico, questo campionato di eccellenza, in realtà una partita sul campo l'aveva persa. Sì. E proprio contro la Fortis d'Ucchese. Contro la Fortis, sì. Sì, che ci dava quella speranza di, magari, eravamo ancora primi mentalmente, però è chiaro che nessuno deve fare la corsa sul Ponsacco. Ma sono le stranezze del calcio queste, no? Una squadra che poi, per motivi, diciamo, altri motivi, viene stromessa dal campionato, l'unica che in realtà ha battuto la Capolista, già nettamente favorita, viene stromessa, insomma, vengono cancellati tutti i risultati e questi si ritrovano, pratica a non perdere nulla, mentre voi e altre squadre... Abbiamo perso punti. No, poi soprattutto, la cosa che magari dà anche più fastidio è che noi ci avevamo lasciato degli ammoniti sul campo e quindi le settimane dopo abbiamo risentito... Con conseguente squalifica. Sì, con conseguente squalifica di Peselli, soprattutto, poi, ora mi ricordo quella, però ecco, sono cose che poi dopo, lungo andare, pesano. Come sta Andrea Peselli? Sta bene? Sta bene, bene. No, perché Andrea lo conosco dai tempi che giocava già nel Pietrasanta Marina qualche anno fa, grande centrocampista per questa categoria, va bene, sì, dai. Sì, sì, sì. Fatto tuo concittadino, mi sembra. Anche lui di massa. Vediamo un po' questi risultati. Ieri siete stati un po' a guardare e a turno tutti stanno a guardare, no? In questo caso. Vediamo i risultati del campionato d'eccellenza alla ventunesima giornata. Lammari-Rosignano 0-0. Si interrompe dunque questa striscia di vittorie, quasi ininterrotte, dell'ammari, che comunque, vabbè, ha conquistato un buon punto. Monsummano-Quarratta 2-0, Pescio-Ozzanese-Ghivizzano-Borgamozzano 2-1, Ponsacco-Castelfiorentino 4-0, Proligorno-Larcianese 2-1, Urbino-Taccola-Sanmarco-Avenza 2-2 e Castelnuovo-Cenaia 0-0 riposava appunto il Pietrasanta-Marina. Vediamola questa classifica che, caro Sandro, è impietosa. Ponsacco-52, non so adesso se l'accostamento ci può stare, ma è un po' la Juventus di questo campionato. Ponsacco-52, Pietrasanta-Marina e Castelnuovo 38. Voi però avete già riposato a Castelnuovo, se non sbaglio, oppure... Anche il Castelnuovo. Eh, quindi siete a pari partite. Quindi c'è questo derby, diciamo... E la classifica potrebbe essere anche... Cioè, 14 potrebbero essere 11 punti. Anche il Ponsacco deve riposare. Sì, quindi diciamo che teoricamente potrebbero essere 11. Poi c'è ancora uno stacco con la Larcianese a 31. Il Lammari a 29, che in questo momento chiuderebbe la zona play-off. E play-off ci sarebbe, perché o voi o Castelnuovo, ora non so chi sarebbe secondo in questo caso. Siete... Avete 9 punti. Sareste voi secondi? No, credo loro. A differenza Retti è a favore loro, lo sconto diretto è a favore loro. Ah, ecco. Quindi sarebbe... Quindi noi dovevamo mettere prima Castelnuovo e poi Pietrasanta adesso. No, vabbè, ma insomma... Sì, cambia poco. Ci sono ancora parecchie giornate. Quindi con Lammari al momento si chiude la zona play-off, dove spera naturalmente di andare anche Givizzano, Borgamozzano, che però è estremamente discontinuo, anche ieri abbiamo visto è stato sconfitto. E poi giù giù le altre, Urbino Taccola, Pro Livorno 25, sempre Castelfiorentino 24, Rosignano 23, poi entriamo nella zona un po' più a rischio, anche se devo dire che pure quelle a 25 non possono stare tranquillissime, Quarrate, Pescia 21, Cenai a 18 e poi ancora più staccate San Marco Avenza e Monsummano con 13 punti. Allora, a questo momento sarebbero play-off, Sandro? Sarebbero play-off, quindi in linea ampiamente con gli obiettivi che ci siamo dati ad inizio stagione, anzi, insomma, è venuto fuori un campionato di alto profilo, possiamo dire... Oltre le vostre aspettative oppure sapevate comunque di poter stare lassù? Ma allora, siamo partiti a fare spenti, poi cammin facendo, ci siamo resi conto, siamo stati sempre più consapevoli delle nostre potenzialità al punto di pensare mentalmente di giocarsela alla pari col Ponzacco. Credo che ci sia stato durante il campionato forse uno stop importante a Castelnuovo dove una partita particolare in cui il risultato è stato alla fine giusto anche se avevamo creato molto, però la consapevolezza di potersi giocare questo campionato fino alla gara con il Ponzacco. Poi quella gara l'abbiamo perduta, siamo andati a 7 punti. Da 4 che eravate? Da 4 a 7 punti. Perché lì vi siete trovati anche in superiorità numerica, se non sbaglio? La partita come... Sì, è stata una partita strana perché il primo tempo loro sono partiti molto forti, sono andati in vantaggio sul calcio di rigore. Noi abbiamo avuto il merito di credere e di pareggiare la partita. Poi c'è stato un episodio ancora prima dell'espulsione di Granito che io ritengo sia stato decisivo, che è stata la forzata sostituzione di Alessio Del Tongo che era appena rientrato negli 11 titolari e che naturalmente con i 6 ma non si fanno la partita, non si fanno la storia, però sia nell'occasione in cui poi nel secondo tempo Balestri ha guadagnato la punizione che sulla punizione battuta da Tamberi avere avuto Del Tongo in area proprio su Balestri o a dominare quell'area di rigore in cui è svettato lo stesso Balestri, ripeto, con i 6 ma non si fanno le partite, non si fanno la storia, però ci dava qualcosa in più. e in più loro erano rimasti in 10, noi avevamo la partita, la stavamo gestendo bene, esce Granito, viene espulso e Lazzini fa un cambio, esce Brega e mette Balestri e per loro cambia la partita. e dopo aggiungo all'ultimo minuto ci vuole la freddezza e l'esperienza di Barzotti per respingere sulla linea una palla che poteva tranquillamente andare in rete e poteva darvi il 2-2, no? poteva essere un 2-2 e un 2-2 e non avevamo rubato niente. E sareste rimasti a 4 punti. Intanto dalla regia possiamo vedere quelle immagini che abbiamo di repertorio, non abbiamo niente di ieri perché ovviamente ieri non avete giocato. Qui caro Paolo siamo all'Ammari. Sì, vabbè, qui c'erano domeniche che ancora c'era il sole, così pare, no? Allora, vabbè, tra l'altro in questo momento voi sareste accoppiati in eventuali play-off però non all'Ammari, bensì alla Larcianese. Sì, in questo momento sì. Alla Larcianese? Sì, sì, è la classifica. Cominciate a pensarci a questi play-off e soprattutto ti chiedo Paolo se c'è qualche rimpianto oppure no? Il mio rimpianto è questa partita qua. Addirittura? Sì, perché l'abbiamo scelta casualmente noi, te lo garantisco. Uno perché personalmente ho sbagliato il rigore. Tu sei il numero qui? Il numero 9? Il 9, sì. Quindi sei questo qui. No, no, no. Ah, non sei il 9. Siamo il bianco celeste. Ah, il bianco celeste, sì, è vero. Lui è un altro Massese e Raffi. Ah, ecco. Sì, ex delle giovanili della Lucchietta. Sì, sì, sì. Quindi dicevi questa partita qui. Sì, perché siamo andati subito svantaggio, poi ho sbagliato il rigore, ma è la partita dove, se non sbaglio, il Ponzacco pareggiorno ci siamo mangiati il controsurpasso. Se si vinceva qua, si tornava primi, non che cambiava qualcosa, però magari mentalmente eravamo, ci riguadagnavamo via la nostra posizione che avevamo tenuto fino a... Quanto conta? Quanto contava essere lì a contatto col Ponzacco che tutti davano, giustamente, la squadra da battere, la squadra favorita e poi quanto ha inciso il fatto di perdere contatto da loro? No, conta sicuramente tanto perché alla fine uno si aspetta soltanto poi che il Ponzacco allunghi, ecco. E finché eravamo lì noi si andava... c'era tanto entusiasmo come c'è anche ora, però è chiaro che ora magari l'obiettivo è un altro e prima potevi giocare anche per qualcos'altro di più bello, di più inimmaginabile magari a inizio stagione. Anche voi avete pensato come diceva il direttore qui che a un certo punto di potervelo giocare questo campionato, come squadra, come allenatore, o allenatore della buona. Sì, assolutamente, che non ci hanno tolto i punti con la Fortis, eravamo noi primi. Eh, lo so, lo ricordo. E quindi anche dopo si è stati a pari punti per tanto tempo. È inevitabile, dai, che uno poi ci pensi, anche se era ancora presto, anche se il campionato è lungo, poi alla fine il Ponzacco come come d'aspettativa è venuto fuori, no? Però aiuta anche, vincere aiuta a vincere, magari star lassù aiuta a star lassù. Mi dici, Sandro, ma questo signore qui classe? Ce lo vedi? Che classe? 84. 84. 84, insomma, 15 gol, non saranno passati, non sarà passata inosservata questa sua bella stagione, no? Ma io lo conosco. Te lo chiedo in tema di mercato, no? Paolo Fusco io lo conosco personalmente quest'anno perché provenendo dal settore giovanile mi sono avvicinato quest'anno al calcio dei grandi e per me oltre che essere una conferma per quello che conoscevo in passato per quello che ha fatto è stata una grande scoperta come attaccante, come uomo, come persona, come leader di questa squadra, leader nello spogliatoio, leader nel corso degli allenamenti per aver poi effettivamente instaurato un bel rapporto con la squadra ed essere da esempio per la squadra. Quindi Paolo Fusco non è solo un grande attaccante perché ha fatto 15 gol ma è una grande persona, un grande uomo e un grande uomo squadra. Tecnicamente ti chiedo non di improvvisarti ma di calarti anche nella veste di tecnico che ho capito insomma il calcio come lo definiresti come attaccante? È un attaccante completo perché predilige fare la punta centrale sicuramente come punta centrale può sfruttare le maggiori opportunità che gli si presentano però gioca bene anche in coppia tenuto conto che noi abbiamo un'altra punta con caratteristiche simili che è Federico Mengali con il quale lui ha saputo ben complementarsi. Quindi è un attaccante che può giocare in area può giocare fuori dall'area vede la porta da qualsiasi posizione è altruista io penso che sia un attaccante completo che tutte le squadre non solo del campionato di eccellenza ma anche di categorie superiore vorrebbero avere Lo scorso anno Paolo era a Givizzano se non sbaglio Sì ho finito da dicembre Allora adesso quando torniamo dalla pausa pubblicitaria dobbiamo dire qualcosa anche su questa squadra che nel panorama del campionato di eccellenza purtroppo sta confermando di avere qualche difficoltà perché sicuramente questa è una squadra che da cui ci si aspettava qualcosa di più e poi parliamo anche dei rigori perché com'è questa storia dei rigori sei rigorista? Sono rigorista? Sì Saresti rigorista No li dividiamo con Federico abbiamo deciso di farne uno per uno all'inizio stagione quindi Va bene adesso ne parliamo pausa pubblicitaria poi entriamo anche nel tema della promozione dove la Portuale squadra che credo conosci delle tue parti abbastanza abbastanza bene di Riffa insomma di Riffa e di Raffa no perché hanno vinto 3-0 fuori casa altro che di Riffa e di Raffa mi sembra che sta cercando di fare un po' pur avendo un vantaggio minore di quello che c'è il Ponsacco il Ponsacco della situazione a tra poco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti